visto il grande riscontro che hanno avuto gli orecchini delfi ne sono stati commissionati un paio e adesso appunto mi sono messa al lavoro anche in questo caso qui forse ora si vede addirittura meglio le caratteristiche di questi orecchini che io già adoravo fino a progettati in azzurro con i flakes cangianti all'interno adoro adesso devo solo montarli sulle varie sulle due monachelle e applicare appunto le perline in coordinato come i precedenti e poi saranno completati sono molto soddisfatta che siano piaciuti